Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi parleremo e andremo insieme a riprodurre questo bellissimo motivo. Questo motivo viene chiamato motivo plisè. È uno di quei motivi che non va mai di moda. È un motivo che ormai da decenni continua a stregare le donne perché riesce in sé unire lo stile vintage e il tocco di modernità. Spesso lo vediamo applicato sulle gonnelline o sui vestiti in tessuto per appunto dare il tocco di femminilità al capo su quale è stato applicato. Noi oggi invece vogliamo farvi vedere come realizzarlo ai ferri. Il bello di questo motivo è che possiamo decidere le misure che vogliamo per creare le nostre onde, le nostre pieghe, possiamo chiamarli così. Le pieghe che si creano danno questo bellissimo effetto tridimensionale come potete vedere. È molto morbido, molto bello e questo bel effetto visivo. La misura appunto dicevo delle onde li potete decidere voi. Se volete fare le pieghe più piccole allora farete meno maglie al legaccio da una parte e meno dall'altra. Comunque ora vi faremo vedere passo per passo come farlo. Su questo campioncino potete vedere un effetto tridimensionale delle pieghe con il multiplo di 10 perché così si riesce a vedere bene bene l'effetto che crea. Ad esempio lo potete tranquillamente appunto applicare per una gonnellina magari facendo un bordo, fare poi una gonnellina che fa questo bell'effetto senza neanche dover aggiungere le mali in più. Può essere tranquillamente applicato su un manico di un maglioncino o anche sul bordo finale di un maglioncino che dovete realizzare per non avere ad esempio la stessa stesso punto e se volete avere la parte leggermente più larghina. Ok possiamo iniziare passo per passo a riprodurre questo effetto. Il campioncino lo lasciamo qui così abbiamo il punto di riferimento e sappiamo qual è deve essere il risultato finale. Partiamo dall'avvio, dobbiamo avviare un numero multiplo del motivo che avete scelto. Nel nostro caso sono un multiplo di 10 quindi abbiamo 50 maglie più 2. Più 2 perché le male di vivaglio non vanno contate. Quindi ci vediamo quando abbiamo avviati 52 maglie. Per avvio potete scegliere quello che preferite. Noi avviamo con il metodo alla nordica. Eccoci qui. Una volta che abbiamo avviato le maglie possiamo partire con la realizzazione del motivo. Sul primo ferro diamo appunto la base al nostro motivo. Quindi seguite. Noi la maglia di vivaglio non la lavoriamo, la spostiamo. E ora iniziamo il conteggio delle maglie. Quindi facciamo 9 maglie tutte per il diritto. Uno, due, tre, cinque, sei, sette, otto, nove. Ora la dicesima si fa a rovescio perché dà la base appunto alla nostra prima piega. Poi bisogna fare attenzione al modo in cui stiamo lavorando le maglie. Bisogna farle abbastanza strettine, non larghe. Quindi stringete bene le maglie così avete un effetto molto bello e curato. Ora facciamo altre 9, tutte per il diritto. Arriviamo al numero 10 e lo facciamo a rovescio. Un'altra piega. Abbiamo creato un'altra praticamente. Ora di nuovo a diritto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. La dicesima si fa a rovescio. Di nuovo 9 per il diritto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. La dicesima si fa a rovescio. 1, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. E la dicesima si fa a rovescio così abbiamo chiuso un altro motivo. E la ultima di vivaglio noi la facciamo per dritto. Ora, guardate, dobbiamo fare attenzione in questo secondo ferro che per sé è la lavorazione molto facile. Bisogna solo un attimo fare attenzione a questo secondo ferro che va elaborato in modo un po' diverso, con i calcoli diversi. Praticamente noi dovremmo ora dividere il motivo in due parti. Visto che il nostro motivo è composto di dieci maglie, noi dobbiamo fare la divisione per due e lavorare le prime cinque maglie per il diritto. E in mezzo dobbiamo praticamente spaccare, dividere, facendo uno a rovescio. Guardate, la male di vivaglio. Cinque maglie per il diritto perché è la metà delle male del primo motivo. Uno, due, tre, quattro, cinque. E qui siamo arrivati a metà del primo motivo. Ora facciamo una a rovescio che questa è praticamente la piega che si crea a metà, che da parte altra ci permette di realizzare la trecettina. Vedete? Ora dobbiamo fare attenzione e riprendere il nostro motivo intero, cioè riprodurre come abbiamo fatto nel ferro di prima, nove maglie a diritto e la dicesima a rovescio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Vedete? Vedete? Vedete la dicesima noi la facciamo a rovescio, vedete? Ed è di nuovo, nove a diritto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la dicesima a rovescio. E guardate, abbiamo già la trecettina dall'altra parte che si sta realizzando. Di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e la dicesima a rovescio. Praticamente nel secondo ferro abbiamo dovuto spostare, fare questa divisione del primo motivo per creare una pieghina. Ora concludiamo il ferro di nuovo mantenendo la stessa elaborazione, cioè 9 per il diritto e la dicesima a rovescio. Facciamo a rovescio. E ora, vedete, qui ci mancano di numero 4 maglie, che sono esattamente le maglie che mancavano per la conclusione del primo motivo che abbiamo spostato, perché noi abbiamo fatto 5 a diritto, la sesta l'abbiamo fatto a rovescio e quelli mancanti 4 li facciamo ora sempre per il diritto. Guardate, 1, 2, 3 e 4. E abbiamo chiuso il motivo che prima è stato praticamente spostato e la ultima noi facciamo sempre per il diritto. Ora il ferro di andata si fa nel stesso identico modo come abbiamo fatto il primo ferro, cioè manteniamo il numero delle mali che abbiamo scelto per il nostro motivo, 9 per il diritto e una a rovescio. Se voi aveste scelto un numero diverso, avresti fatto il multiplo di quel numero e in conseguenza manterreste le maglie di quel numero di cui avete scelto le pieghe. Vedete? Qui ci ritroviamo che facciamo il motivo che sta già prendendo praticamente le sue prime pieghe. Arriviamo al dicesimo e facciamo il rovescio. Vedete? Facciamo adesso alcune ferri così si vede meglio la piega. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 a rovescio. Di nuovo. Quando arriviamo al fine del ferro, se avete fatto bene la divisione vi accorgete che la ultima, non contando quella del bivalio, sarà a rovescio, come sul primo ferro. Vedete? Facciamo a rovescio perché è la dicesima, quindi la divisione è stata fatta bene. Ora la stessa cosa. Guardate, torniamo a fare il ferro di ritorno con la stessa modalità, cioè dividendo, sfalsando, spostando la maglia di rovescio. L'anticipiamo praticamente, andiamo a fare 10 diviso 2, quindi le prime 5 per il diritto e la sesta si fa a rovescio, quindi abbiamo anticipato quella di rovescio. 1, 2, 3, 4, 5, la sesta a rovescio. Ed allora, vedete che si sta creando già la piega e si vede la trecettina. Ora ci dimentichiamo del passaggio che abbiamo appena fatto e riprendiamo il motivo così com'è, cioè 9 più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la dicesima a rovescio e di nuovo. E così fino alla fine del ferro, mantenendo questa 9 per 1, 9 più 1 scusate. La dicesima la facciamo a rovescio ed ecco di nuovo. ci ritroviamo con il numero, scusate, delle mali mancanti per il primo motivo che abbiamo spostato, abbiamo diviso. Facciamo per il diritto, 2, 3 e 4. E ora anche la ultima di rivaglio, guardate, abbiamo fatto pochissimi feri e abbiamo già la piega che si sta creando e si vede già visibilmente, possiamo già vedere le pieghe, quindi possiamo già tranquillamente mantenere i punti così come si presentano andando su per tutta la lunghezza che ci serve per realizzare il nostro progetto, perché poi dipenderà l'unhezza ovviamente per chi che cosa si sta realizzando appunto questo bellissimo motivo cliché. Ecco, adesso il ferro numero 5 va fatto nello stesso identico modo del ferro numero 1. Quindi i ferri dispari si fanno 9 più 1 e i ferri pari vanno a dividere il motivo. Quindi ora procediamo con il 9 per il diritto più 1 a rovescio. E così fino al fine del ferro. Ecco, ora vediamo un'altra volta come fare la divisione del primo motivo, che ormai non c'è neanche tanto bisogno a fare i conti perché ormai si vede benissimo, quindi si mantiene semplicemente il motivo. Comunque, vediamo, prima di vivare uno da spostiamo, facciamo i nostri 5 per il diritto, il sesto a rovescio e ora riprendiamo un motivo intero, 9 più 1. E così procediamo per un po' di ferri e ci vediamo per vedere com'è il risultato finale. Ecco, così si presenta il nostro capioncino dopo aver fatto altri ferri, un paio di ferri in più. Ovviamente più andiamo su più si vedrà la piega, è molto bello, ha questo effetto davvero molto luminoso e molto bello, perciò può essere abbinato e può abilire qualsiasi capo al quale sarà applicato. Ovviamente noi qui abbiamo fatto, come vi ho detto, con il motivo, la pieghina composta da, motivo composto da 10. Ovviamente lo potete fare anche con 4 se volete, le pieghine piccoline, sottile, con il 6 se li volete un po' più grosse, medie, con 8, con 10, 12, come volete voi. In quel caso lì, il secondo ferro dovrà essere diviso appunto al motivo che avete scelto. Cioè, ad esempio, se avete scelto 6, allora nel ferro di ritorno farete 3 per il diritto, il quarto per il rovescio. Poi tornerete a rifare il vostro motivo composto da 6, che sono 5 più 1. Spero che il video sia stato chiaro, se avete alcune domande potete tranquillamente porle qui sotto, cercheremo di rispondere. E ci vediamo con un nuovo tutorial. Grazie a tutti!